Ho avuto un po' di problemi con l'altro telefono, dicevo insomma potrebbe essere che insomma conoscete qualcuno ad aprile, vi andate ripeto a impelagare in una situazione comunque non carina e poi non sapete assolutamente come uscirne fuori. Qui parla di un incontro passionale, bellissimo, tutto quello che volete ma non di una relazione comunque duratura, anche se qualcuno di voi potrebbe innamorarsi, qualcuno di voi pensa comunque a un nuovo inizio, ci pensa tanto a questa relazione, ma vi ripeto non può essere assolutamente una relazione che porta insomma a un qualcosa di positivo, anzi potreste soltanto avere delle comunicazioni, magari qualcuno se ne accorge e vi parte la carta della separazione, oppure magari la persona stessa di cui vi siete invaghiti, cioè vi dà un due di picche, quindi vi raccomando prestate attenzione. Ok, questo è quanto per voi amici del leone, scusatemi per questa metà di video, ma purtroppo dall'altro lato non so che cosa sia successo, vi invito a mettere un like, tenetemi aggiornati della situazione, commentatemi e fatemi sapere, perché soltanto attraverso voi posso insomma sapere che cosa accade in realtà. Vi ringrazio e ci sentiamo presto, buona giornata!